Tradizionale appuntamento a Villa Toscanini con crema sposi, la rassegna espositiva dedicata a chi ha deciso di convolare a nozze. Negli ampi spazi della villa di Ripalta Guerini è andata in scena l'edizione primaverile di una manifestazione che, malgrado la crisi, continua ad attirare l'attenzione di decine di operatori del settore. Si va dai locali più suggestivi dove ritrovarsi con parenti ed amici per festeggiare le nozze, a quanti si occupano di momenti specifici della lunga celebrazione civile e religiosa. Tutto è curato al minimo dettaglio, a partire dagli abiti che indosseranno i promessi sposi di loro parenti più prossimi. Non mancano gli acconciatori, i fioristi, le agenzie di viaggio e quelle di noleggio di auto e carrozze. Ogni momento ha bisogno del suo esperto, non ultimo che deve immortalare gli istanti più significativi della festa. Così a Villa Toscanini hanno fatto tappa per una giornata decine di giovani alla ricerca di occasioni alla loro portata, in grado di rendere indimenticabile il matrimonio. E quanto avviene in febbraio e marzo in tante altre località della Lombardia, le rassegne dedicate agli sposi rappresentano infatti uno degli appuntamenti fissi del panorama espositivo regionale. Crema Sposi si distingue per la scelta del luogo Villa Toscanini nella campagna cremasca.